di una situazione attuale vista da tanti punti di vista e io chiederei già direttamente a Giuliano Ramazzina di spiegarci un po' dove è stata fuori l'idea di creare un contributo multiplo di una serie di autori tutti diversi, tutti che vengono dai mondi dell'industria piuttosto che del commercio, piuttosto che del turismo, piuttosto che del giornalismo e come mai hai messo insieme questo gruppo da dove ti è venuta l'idea? Grazie, allora direi che ti fa fatica stare chiusi in casa quanto a fare niente specialmente se uno ha l'abitudine di scrivere, direi che è molto semplice, terribile e allora bisogna darsi da fare, bisogna avere qualche idea, bisogna aprire la finestra dell'intelletto nel senso che per riempire le giornate non c'è niente di spedizione per uno come me di prendere il telefono e chiamare magari degli amici. Però su cosa? Devo dire che il primo amico che ho trovato disponibile è Mauro perché inizialmente l'idea di fare qualcosa assieme e qui diciamo caleotto su Covid perché Mauro ha delle idee che naturalmente ci siamo confrontati. C'è molto di lui nell'ideazione del libro. Devo dire che mi sono trovato benissimo con lui a confrontarmi. Cosa è successo? È successo che da un libro a quattro mani è diventato un libro a sedici testi perché sono ben sedici i contributi. Perché l'idea di allargarlo è stata proprio di Mauro. Poi Mauro magari lo spiega anche lui. niente di meglio. Benissimo. Comincio a prendere così degli appunti e vedere tra le mie amicizie quali sono, quali potrebbero essere dei contributi originali perché ho appena lasciato al telefono la Francesca Lisentini che è una mia collega alla quale ho mandato il libro e mi ha detto, caro Giuliano non è ancora noto su niente perché ce ne sono tantissimi di libri come il tuo. Tutti scrivono libri collettivi, tutti scrivono libri praticamente non c'è più solista. Ci sono tanti autori messi assieme. Anche questa è un'altra cosa che ovviamente io avevo valutato e che abbiamo valutato anche con Mauro non era un'idea originalissima. Però cos'è che fa la differenza? di selezionare gli autori cercando di dare un senso ai loro contributi e soprattutto di costruire un libro trasversale, collettivo e trasversale. Collettivo perché mai come in questo momento bisogna fare squadra. Il coronavirus è una brutta bestia, è un mostro e naturalmente forse stare assieme, confrontarsi, dialogare è la cosa migliore. Finirà anche questa situazione di annunzienza. Però se qualcosa resterà secondo me è proprio questo, è lo stare assieme, di trovare qualcosa di comune. Tra l'altro devo dire che ho trovato in tutti questi annunci anche solisti, perché scrittori come Matteo Strucchi e Nicolai Livi sono due solisti che si sono prestati, hanno dei contratti con delle grandi case editrici, e non hanno avuto esitazioni a collaborare, a entrare in questo mio progetto che l'ho spiegato e così, mettendo assieme vari mondi, l'università, la letteratura, la politica, perché ci sono dei contributi per esempio di un politico navigato, ma di grande indiridenza come Lorenzo Ceda. E poi, insomma, mettendo assieme Tassel e Tassel è nato questo libro, il titolo di cui titolo è stato ideato da Mauro, perché ci siamo confrontati, c'erano vari titoli, però quello di prendere una frase, chiudo poi lascio la parola a Mauro, mettere un titolo preso da una canzone molto bella, che è quella di Lucio Dalla, chissà domani, sicuramente, c'erano altri, però questa qui, devo dire, è stata un'idea, direi, azzeccata di Mauro, e quindi, come si vede, insieme abbiamo costruito questo libro, dove io ho selezionato gli autori, ma c'è molta farina del sacco di Mauro, che ringrazio anche, lo ringraziamo anche noi, e quindi... Devo dire, un compagno, non è facile lavorare assieme, devo dire che io mi sono trovato molto bene con lui di confrontarmi le idee, abbiamo trovato subito un'amalgama nella specificità, non siamo uguali, però, insomma, intellettualmente abbiamo, abbiamo armonizzato bene, ed è venuto fuori questo figlio, questo libro, che è sempre qui, di quel evento quando nasce un figlio. Ottimo, siamo, siamo felici di questo risultato. Quindi, a questo punto, ne approfitto e passo la palla al direttore Mazza, di proseguire su questa linea, qual è stato il suo contributo, allora a questo punto, da dove è venuta l'idea, come è riuscito a gestirla, e, cortesemente, qualche appunto sul suo alfabeto particolarissimo, l'alfabeto del coronavirus. Io so che a lei piace tanto iniziare dalla Z, anziché dalla A, in l'ho seguito. Concludo, concludo l'intervento, la Z. Stavolta va bene, va bene. Saluto intanto tutti gli amici che sono in collegamento, quelli che conosco, ovviamente, quelli che ancora non conosco, e la Ida Poletto, che richiedo volentieri, sebbene a distanza, dopo un po' di tempo, quello incontro bellissimo nel tuo albergo, l'idea che abbiamo fatto. Allora, io, in premessa, dico anch'io, mi sono trovato molto bene con Giuliano, io non sono un solista. Io sono sempre, per 40 anni ho lavorato non da solo, perché la vita della redazione impone di lavorare con gli altri. Spesso, anzi, si lavora, come capita per i parenti, i colleghi non si scelgono, no? Quelli che ti trovi, con quelli devi lavorare. Poi, avendo avuto la fortuna, diciamo, la possibilità e la responsabilità di ruoli direttivi e dirigenziali, a quel punto, non potendo allontanare gli incapaci, mi sceglievo per starvi più vicino a quelli che consideravo migliori, professionalmente e umanamente. Giuliano, da questo punto di vista, è splendido, perché quelle che sono le mie carenze, cioè il senso pratico, il senso dell'organizzazione, Giuliano, in questo è splendido, perché non avere questo gravame di cose, di impegni, ecco, l'editore, l'invio delle copie, coordinare, chiedere gli interventi a chi ha dato l'impegno, però poi ridata la consegna, questa è una cosa che io mi direi che è incapace di fare, ma sopprisce Giuliano e mi lascia quindi il tempo di trovare qualche buona chiave. Il titolo, io avevo un dubbio, forse a Ramazzina nemmeno l'ho mai detto, io ero un dubbio tra chissà chissà domani, mi ducio dalla, e perché domani sei migliore da Baglioni, perché quello però dava un'indicazione. Siccome poi io detesto la retorica, tra le altre cose che detesto, allora questo andrà tutto bene, ne usciremo migliori, cantiamo dai balconi, io non ne potevo più, già in pieno coronavirus, in piena fase 1, questa retorica, non volevo evitare che almeno il nostro piccolo contributo, fatto col cuore e con un po' di ragione, non si unisse al coro della retorica. Altra cosa che io detesto è la tutologia, detto da un ex direttore, direi uno fa una certa impressione, cioè quando io ascolto Alba Parietti che insegna ai virologi il suo mestiere, o quando sento Alessandro Cecchi Paone che spiega l'uso corretto delle mascherine, io provo brividi lungo la schiena, qui si parla di cose serie, non si parla del gossip, dell'ultimo fidanzato o fidanzata nel mondo dello spettacolo, si tratta della salute della gente. Allora ricordo la sicumera con cui Cecchi Paone diceva, no, la mascherina devono portata soltanto i contagiati, non quelli sani, perché io non capivo, mi sembrava così idiota questa affermazione, che gli rimbalzava nella mente e la diceva con forza, perché uno con più forza dice le cose in TV più 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 lo richiamano per prendere il gettone, andando a stringere così finisce la morale della favola, è il gettone di presenza, se uno incide e urla più degli altri, prende il gettone più volentieri, che lo richiamano più volentieri gli organizzatori. Questa era la cosa con cui io polemicamente mi sono accinto a questa modesta opera, ma fatta davvero col cuore. Tanti hanno fatto diari, hanno fatto riflessioni, anche più autorevoli di noi naturalmente, ma questo ha il pregio di essere agile, di scrittura e spero anche di lettura. Enza dice, io amo la Z, ma amo anche ricordare la A, la mia A del mio alfabeto, del mio piccolo vocabolario, è la A di Ante, c'è un Ante, c'è un dopo coronavirus. L'Ante l'abbiamo nella memoria, perché davvero difficilmente tornerà presto tutto come prima. Io credo che un giorno tornerà qualcosa di simile a quello che avevamo lasciato prima di febbraio. Credo invece che arriviamo a questa fase 2, nel tema della fase 2, già cambiati. E arrivo alla Z subito, perché quella parolina, l'ultima, quello zuzzurellone, a me piace molto, perché ho scopato di questa parola strana un significato che non è quello di impatto, non è quello del bambinone che non vuole crescere, che resta bambino nel senso negativo, ma è lo zuzzurellone che guarda il mondo con gli occhi bambini. Cioè, guarda il mondo con gli occhi che io ho fatto somigliare, nel mio ricordo, a quello dei nostri genitori, a quello delle famiglie, giovani famiglie, che dopo il 45 sono davvero rimboccate le mani, che hanno scommesso sul futuro. Con l'incoscienza, con gli occhi bambini, quando tutto intorno non induceva al coraggio, all'avventura. Loro invece ci hanno creduto, hanno costruito il futuro di cui noi siamo figli. Ecco, io vorrei che prima o poi ritroviamo questo occhio bambino, questo occhio di zuzzurellone. Non è facile, mi fermo qui, perché in questi mesi, vedete, ci hanno pressato, ci hanno fatto oggetto di soft power, cioè di condizionamento, ci hanno martellato e ci hanno instillato la diffidenza verso il prossimo. Se spiace che non ci sia Don Bruno, una sua riflessione sul punto sarebbe stata molto interessante. Ci hanno fatto diffidare di chi ci è vicino, del nostro vicino di casa, del nostro bottegaio, del nostro giardiniere, dell'amico che vediamo per strada, ma o fingiamo di non vederlo grazie alla mascherina o attraversiamo il marciapiede. Questo è pericolosissimo perché ci allontana dal senso di comunità, senza il quale non si riparte, senza il quale non torniamo a essere un paese che guarda al futuro con qualche ottimismo. Siamo appesi alle elemose nell'Europa, questo è un altro tema molto più politico che non rientra nella mia riflessione in questo momento, ma ecco, dobbiamo ritrovare il senso dell'essere comunità, il piacere dello stare con gli altri e stare insieme. Poi io che sono romano, ho trattato nel nord est come battuta, ma è battuta fino ad un certo punto, ve la regalo e mi fermo, quando si è detto da domani potete uscire. A me è venuto distinto dire non si può fare tra qualche giorno, perché subentra quel misto di pigrizia e diffidenza e dello stare a guardare come fanno gli altri prima di avventurarsi in una situazione che resta ancora molto precaria e ancora di una precarietà che non sa di futuro, sa ancora troppo di presente. Io mi sono aggrappato, vi confesso in amicizia a questa piccola cosa, mi aggrappo ogni giorno ai dati dei contagi quotidiani. E se quella cifra è meno del giorno precedente, io affronto la serata con un po' più di levità, sperando che quel virus maledetto, così come è venuto, se ne vada per conto proprio da un'altra parte. Grazie direttore, intervento veramente molto apprezzato, grazie. Io la lascio con una domanda per un secondo momento, intanto farò intervenire il professor Fumian, però volevo che si preparasse cortesemente a una M che nel suo alfabeto è mascherina, ma in riferimento alla C di Conte piuttosto che alla B di Borrelli, io vorrei fare una domanda sulla M di Mattarella. Tra poco la richiamerò e le chiederò la sua M di Mattarella, che cosa sarebbe stata se fosse stata inserita nel suo alfabeto. Passo un attimo alla parola quindi al professor Fumian, grazie. Professore ordinario di storia contemporanea, lei ha fatto un intervento molto peculiare e preciso richiamando le vecchie pandemie e posizionandoci in quella attuale. Volevo leggere un breve paragrafo in conclusione del suo intervento per poi porgerle una domanda. Lei dice, tra le lezioni per il futuro bisogna comunque annotare il fatto che i comportamenti umani sono più elastici e tolleranti di quanto la viziata società dei consumi potesse aspettarsi. La gente si acconcia ordinatamente alle file per il pane, ergo il genere umano non ha smarrito i promigeni di resilienza nelle difficoltà e non era scontato dopo 75 anni di pace e prosperità. Dopodiché lei passa e dice... Adesso sento Bianca! Adesso? Ah, niente. Manca cioè una politica che con coraggio indirizzi questa capacità verso esiti migliori per tutti. Vorrei che lei ci facesse una considerazione libera su quello che lei intende per lezioni che noi dovremmo aver imparato, la nostra società politica avrebbe dovuto imparare. La parola lezione è riportata diverse volte da tutti voi autori, è un po' un luogo comune che si ripete con i vostri punti di vista, ovviamente molto specifici. Ci puoi approfondire un attimino questo argomento, questo punto? Grazie. Ci provo. Intanto buonasera di nuovo a tutti voi, a tutte e tutti voi. Vi ringrazio. Mi scuso perché come vi dicevo prima alle 18.30 ho un altro collegamento quindi dovrò salutarvi. Noi siamo bravissimi a prevedere il passato quindi insieme a Giovanni Gozzini eravamo un po' in difficoltà nel ragionare sul domani e sulle ipotetiche elezioni. Io credo che tutto dipenda dall'impatto che poi il virus avrà, nel senso che davvero ne sappiamo ancora molto poco. Non sappiamo se ci sarà una seconda ondata, non sappiamo se sparirà, non sappiamo se nell'arco di un anno, due o mai ci sarà il vaccino, non sappiamo quale sarà il bilancio. Quello che di sicuro ci ha insegnato subito ci ha ricordato che siamo un ecumene umano non divisibile, che il virus colpisce tutti e ci ha ricordato questa cosa banalissima che è trasversale a tutto lo stuccosissimo dibattito su globalizzazione sì, globalizzazione no, che comunque sia problema globale e ci vogliono soluzioni globali. E quindi un problema come la pandemia, come una pandemia, dovrebbe essere il più elementare suggerimento a cercare forme di cooperazione in ogni ambito, nell'ambito scientifico, eccetera. Quindi a ridurre al minimo quelle risposte isolazioniste, protezioniste, etnocentriche, eccetera, che combinano solo guai da questo punto di vista. Quindi la ricerca, se da questa avventura della pandemia, che ripeto è legata molto anche a un mutamento culturale, cioè il fatto che la ricerca scientifica degli ultimi decenni ci fa immaginare che riusciamo a salvare tutti. Nel 1918-19 nessuno ci pensava a questo, quindi l'hanno subito, hanno subito lo tsunami. Noi non sappiamo ancora quali sia il grado di letalità poi alla fin dei conti, però dal punto di vista culturale la pandemia ci fa immaginare che si debba salvare tutti. Quindi quando colpisce in certi cluster precisi, regionali, New York piuttosto che da Lombardia, eccetera, fa dei veri disastri. Anche se sul piano demografico noi la letalità non la vedremo, non si muove l'asticella, perché siamo 7 miliardi e mezzo, quindi sarà una percentuale non calcolabile, però in quelle zone ne abbiamo subito un contraccolpo terribile. Io non credo che cambierà molto, nel senso che sarà un cambiamento a macchia di leopardo. Cioè tutti avremo imparato molto meglio a usare il computer, risparmieremo un sacco di tempo, tutti coloro i quali possono permetterselo, appunto, fanno lavori dove il computer possa sostituire, che ne so, la ramazza in strada piuttosto che guidare il camio e quindi lì ci saranno delle trasformazioni radicali. Dopodiché dipende, per esempio, dal digital divide, cioè lì vedremo chi è connesso e chi è no e si riproporranno tutta una serie di problemi. La questione della politica è che deve rispondere semplificando al massimo i rapporti tra Stato e rendendo trasparenti i rapporti tra Stato e cittadini. Non diamo la colpa di tutto al Covid. Il Covid ha scoperchiato problemi che sono lì da decenni, nel caso italiano, ma in qualsiasi altro paese. Il nostro problema è riformare completamente i rapporti tra Stato e cittadino, riformare la pubblica amministrazione, semplificare. Se i soldi che hanno promesso e stanziato poi non arrivano ai cittadini, è un problema. Quindi, in questo senso, il Covid potrebbe aiutare. Però io non credo che alla fine ci saranno mutamenti radicali, ahimè, di comportamenti sostanziali. Dipende poi, se dura tre anni, i comportamenti diventano, senz'altro si adegueranno. Dico solo una cosa, dopo la pandemia della Spagnola, e mi fermo, vi chiedo scusa per tutto il tempo che vi ho rubato, ci misero dai 5 ai 6 anni prima di ritornare a prendere il treno con sufficiente confidenza. Però sono tornati tutti a prendere il treno e la faccenda è morta lì, è stata dimenticata, diciamo, assorbita, ingoiata nella tragedia della guerra. Sono circolate anche bellissime immagini sulla pandemia del 1918 con gli stadi pieni di persone, con le mascherine che assistevano alle partite. Penso, mi correga se sbaglio, il prossimo passo è questo, è verso il grande pubblico, quello degli stadi, quello dei concerti. Come pensa che verrà affrontato dalla politica questo specifico argomento che poi è molto caro, ovviamente, agli italiani, agli sportivi, ma anche l'idea di trovarsi davvero insieme in enormi agglomerati, non solo in piccoli gruppi. Non so farle nessuna previsione. Ripeto, dipende dalla durata di questa... Il famigerato lockdown può sparire, possiamo tutti dimenticarcene nell'arco di qualche settimana, oppure possiamo essere costretti a conviverci con altre forme, ovviamente, più moderate, ancora per molti mesi. Però questo veramente non lo può sapere nessuno. Vedrà che appena si può si tornerà allo stadio con o senza mascherina, cioè l'ansia di aggregazione della gente, soprattutto anche dei giovani, non è comprimibile. Basta vedere le scene delle spiagge della California, quindi appena si avrà la sensazione che il virus è meno aggressivo si tornerà tutti a far quello che si faceva prima. Probabilmente in molti settori e in molti ambiti perdendo una grande occasione. E ce l'auguriamo molto presto. Dottor Fiume, noi la dobbiamo salutare, lei rimane ancora con noi? Esattamente, vi devo salutare, mi dispiace non poter discutere con voi e davvero vi ringrazio a tutti. Ringraziamo noi lei e veramente ci rivedremo presto, speriamo anche di persona. D'accordo? Senz'altro, senza mascherina. molto gentile. Arrivederci, buonasera. Grazie, grazie del contributo. Buonasera. Puoi pure dare la parola a Dottor Potti perché è riuscito a collegarsi con l'iPad e quindi... Perfetto, però vedo che è ancora... Eccolo qui. Buonasera, Dottor Potti. Buonasera a voi, scusate, ma oggi mi è successo di tutto. Ho detto già a Giuliano e quindi ci tenevo a non mancare. Eccomi qua. La ringraziamo tantissimo e noi siamo curiosi di sentire il suo contributo e quello che ci potrà... che potrà condividere con noi questa sera. Io ho una domanda veramente molto rapida su una porzione del suo scritto nel quale lei elenca tre... lei chiama tre semplici concetti e sono i seguenti. Lo stop alla globalizzazione e io personalmente non l'ho visto molto però appunto le chiedo cosa vede di semplice in questi tre concetti. Stop alla globalizzazione, il secondo è la velocità, il concetto di velocità e il terzo il concetto di incertezza e imprevedibilità. riuscirebbe a condividere con noi in cinque minuti queste sue posizioni? La domanda c'entra perfettamente il senso di quello che ho provato a scrivere e mi allaccio a quello che diceva Mauro Mazza così lo saluto anche perché ciao Mauro perché il mio ragionamento poi arriva esattamente sul campo di Mauro ma vado per punti rapidamente. Stop alla globalizzazione non è una speranza ma è un dato di fatto. Avremo meno consumi e meno viaggi. Scuola e lavoro a distanza, frontiere più alte tra gli stati, produzione nazionale di tutti i beni essenziali, spesa pubblica concentrata su ambiente e sanità, distanziamento umano e sociale. Ecco, già questo basta per dire con cosa faremo i conti almeno per i prossimi due, tre anni qui la previsione non la sa nessuno e non ho la sfera di cristallo. Il secondo punto la velocità. Abbiamo visto per citare un esempio come nella scuola, nell'università in tre settimane è successo quello che non succedeva da tre, quattro anni noi del mondo digitale spingevamo per l'online per fare le lezioni in remoto e hanno dovuto adeguarci. Chi l'ha fatta con Whatsapp magari non saranno tutte conformate, molte zone manca la banda ultra larga e questo è un grande problema del paese. Però la velocità, bisogna dare risposte veloci a problemi veloci e questo mi riferisco anche all'urgenza di Industria 4.0 che è il paradigma secondo me dell'impresa dei prossimi anni per ripensare i processi produttivi in chiave digitale manifatturiera. Terzo ed ultimo incertezza e imprevedibilità però non vediamola solo in negativo imprevedibilità nel senso che sono successe e succedono cose che non avremmo mai pensato in matematica imprevedibilità significa caos ma non ci deve spaventare perché io sono convinto che se seguiamo le cose ecco quello che farà la differenza con competenza e coerenza l'incertezza e l'imprevedibilità diventerà un fattore positivo ma il finale mi aggancia a Mauro Mazza il dubbio che metto nel capitoletto che ho inserito nel libro che siamo animali siamo animali che dimenticano molto in fretta io vedo già in questi giorni alcuni comportamenti che stanno cambiando e siamo alla fase 2 figurarsi alla fase 3 cioè ritorniamo passatemi il termine cattivi o buoni come eravamo prima nascerà allora questa è la domanda con cui concludo nascerà una nuova solidarietà globale o ci rinchiuderemo nei nostri miseri interessi di bottega è presto per dare una risposta e sicuramente non sono io all'altezza per darla però il discorso di Mauro Mazza mi convince molto certo infatti anche lei parla e si fa la domanda si pone la domanda ma questa lezione ci servirà a riscoprire tanti valori che abbiamo lasciato troppo spesso per strada il contatto umano come sapersi gustare la bellezza di una passeggiata in compagnia sapremo mettere da parte l'edonismo fino a se stesse grandi e piccoli egoismi sapremo ritrovare tutto questo e le dà una parola di speranza le dice spero tanto di sì perché significherebbe che questa esperienza ci è servita mi sembra di aver capito che però già lei è un po' preoccupato che non sia tanto servita l'esperienza vista allora questo noi l'abbiamo scritto un mese fa circa tre settimane e fa è già cambiato molto e non so cosa cambierà in futuro io continuo a essere tra quelli e l'iniziativa ad esempio del libro lo è in questo senso che pensa che ci sia una non è neanche una ripartenza è una nuova partenza in assoluto questo deve essere il nostro spirito e c'è una parte sana che è la maggioranza della nostra Italia e anche della nostra Europa però non possiamo ridurre tutto ai finanziamenti europei non possiamo ridurre tutto ahimè ai 600 euro di bonus anche perché così butto lì una mia sparata io temo che tra settembre e ottobre questa è un po' le stime che facciamo anche come Confindustria se non intervengono interventi veramente pesanti anche dal punto di vista sociale l'Italia rischiera molto io non sono un negativo sono un ottimista e lo dico subito quali sono i dati se si può sapere in questo contesto nel contesto di questa chat che lei sta rilevando in così a grandi linee non chiediamo dettaglio però ma a parte la confusione e il ritardo con cui i soldi vengono messi in tasca delle imprese e delle aziende c'è una fascia di che si sta dimenticando completamente il governo che è fatta dai professionisti geometri ingegneri avvocati persone bravissime che hanno fatturato zero da 3, 4, 5 mesi e non è che tutti hanno i soldi in banca come si può pensare magari pensano che noi in Veneto li abbiamo o qualcosa del genere questo è il primo poi va a terminare la prima parte di cassa integrazione infatti noi chiediamo che venga prorogata almeno fino a fine ottobre e questa è la prima copertura che va trovata subito con i soldi dell'Europa e questa è una questione molto seria terzo c'è una fascia di giovani start-up dove noi facciamo i convegni i contest tutte queste belle cose qui che sono il nostro futuro però la banca al vecchio industriale che ha un capannone e un macchinario che magari sono anche arrugginiti gli dà i soldi volentieri al ragazzo che ha idee brevetti e quindi idee di futuro diritto d'autore cose impalpabili ecco la parola la banca fa fatica fa molta fatica io dicevo moltissime note lettere di ragazzi che sono nei co-working che sono nei fab lab che soffrono questo momento difficile e al di là dell'intervento c'è una quota sulle start-up in termini di finanziamento ma quando noi diamo la liquidità non è per tutti cioè la liquidità va bene per i grandi le grandi imprese già le medie se ne fanno qualcosa le piccole peggio ancora perché il tema vero la liquidità a fondo perduto ha un senso il prestito che devi restituire nel corso di anni specie se gli anni sono sei non è un grande aiuto per chi è molto molto piccolo perché non ce la fa allora noi chiedevamo di andare a 10 15 anni specie per queste start-up e per questi giovani lei ha la speranza che il vostro il vostro grido la vostra richiesta venga ascoltata perché poi passerò nuovamente la parola al dottor Mazza proprio riguardo alla sua opinione sulla presidenza del presidente della Repubblica Mattarella rispetto al presidente del Consiglio Conte le lascio ancora due minuti forse vi spiazzo dicendo che prima di pensare a Mattarella a Conte io fiducia in Carlo Bonomi abbiamo un presidente di Confindustria con le idee chiare e quadrate che stimo anche e quindi io mi aspetto che le associazioni la società civile gli imprenditori hanno sempre in questo periodo tre quarti della cassa integrazione la stanno pagando le imprese non la sta pagando lo Stato siamo all'80 70% questi sono i dati oggi perché non sono arrivati i soldi quindi l'imprenditore mette di suo mette i soldi che ha messo da parte in tanti anni di lavoro ecco credo che ci sia un'Italia sana e su quella io ci conto però la politica almeno almeno ci tolga la burocrazia chiudo con questo vogliono fare faranno forse il decreto su burocratizzazione bellissima parola ma perché allora l'ultimo dpcm ha 270 280 articoli e 92 rimandi a come si chiamano a decreti esecutivi dei vari ministeri 92 potevano scrivere un po' più chiaro 5 articoli chiari e semplici me lo domando tutti i giorni la ringraziamo non voglio togliere il fiato al contrario io sono ottimista e ripeto la fiducia ce l'ho nelle nostre imprese e nei nostri imprenditori in questo modo e noi siamo rappresentanti di quelle imprese e sappiamo ci prendiamo la responsabilità e ce la faremo perché è vero la forza viene da noi e noi spingeremo per andare avanti per dire che ce la faremo sono assolutamente d'accordo e allineato e ci credo tutti i giorni tutti i giorni ottimo io la ringrazio veramente spero di poterla anche conoscere di persona grazie lei rimane collegato sì io una decina di minuti molto volentieri poi purtroppo questa cosa che mi è successa sono uscito da pronto soccorso da mezz'ora devo devo medicare non si preoccupi ne facciamo tanti auguri allora passo la parola al direttore Mazza e la ringrazio ancora a Dottor Fotti grazie sì Enzo io farei dei flash prima di parlare di Mattarella lo faccio anche volentieri sulle cose che diceva Fotti molto stimolanti mi ritenebbero altrettanti dibattiti ma proprio per telegrammi io credo per esempio in tema dell'ultimo l'aspetto sulla eccesso di burocrazia io credo che quel decreto con tanti conni con tanti articoli sia un classico di una politica che preventivamente vuole dire io ho fatto però se quella cosa si blocca non venite a chiedere a me perché vedi Gianni al primo intoppo di una di un'operazione parliamo del Ponte Morandi che è un po' un paradigma della sburocratizzazione diciamo si è fatto in fretta e bene perché è andato tutto bene finora è andato tutto bene ma il primo magistrato che alza il ditino e scopre un granello di sabbia nell'ingranaggio della macchina esce Roberto Saviano in diretta da Fabio Fazio sulla pagina delle pubbliche e dice fermi tutti qui la mafia ha messo le mani su quella cosa importante sui soldi dell'Europa dell'Italia degli italiani e quant'altro questo è il tuo problema cioè si ha la paura paura che tutto possa crollare perché basta un non nulla la cadena del controllo viene meno e i vari passaggi che garantiscono anche la politica le scelte della politica se si salta un passaggio si può infilare qualche malintenzione questo quanto riguarda non voglio giustificare dico che però l'Italia è anche questo è anche quello dei profeti che pontificano e della difficoltà di chi invece vuole fare e ha bisogno di fare per vivere per andare avanti altro esempio per restare sul tema più o meno i finanziamenti europei decisi nelle ultime ore non è solidarietà il valore di riferimento che è subentrato miracolosamente è l'interesse che è cambiato qualcuno molto avveduto parlo della Merkel ha capito che se c'è un'altra Grecia che si chiama Spagna e un'altra ancora che si chiama Italia non è non è necessario essere solidari i paesi in difficoltà è interesse della Germania che non ci siano altri casi Grecia in Spagna e in Italia è l'interesse che è cambiato col coronavirus attenzione non confondiamo l'interesse che muta con l'arrivo l'avvento dell'Europa solidale non è così e lo vedremo nei tempi nelle condizioni negli interessi con cui questi soldi arriveranno quando e se arriveranno in Italia l'altro tema invece è molto non è razionale è anche subentra il sentimento subentra come siamo fatti come esseri umani è la smemoratezza io vedo nella capacità di dimenticare anche una componente che garantisce la vita all'essere umano cioè una persona o un popolo che esce da una tragedia che sia personale familiare della comunità come una guerra come pensate a quanti a Bergamo a Brescia hanno perduto due, tre, quattro familiari molti amici in questa vicenda come si fa ad andare avanti a ripartire la smemoratezza in questo senso la dimenticanza è un'arma fortissima per ripartire guai se questi lutti gravassero sulla coscienza H24 saremmo incapaci di sorridere di andare avanti di guardare al futuro e di costruirlo ecco perché la smemoratezza è anche una dote una virtù dell'uomo e l'uomo guai se la perdesse se smemorasse la sua smemoratezza Mattarella vuol sapere allora io ho conosciuto Mattarella quando ero cronista parlamentare a quel tempo giovane anche Mattarella era molto giovane Mattarella è una persona per bene non è cambiato credo in questi anni in cui non ho più avuto contatti con lui essere per bene in politica è un valore aggiunto non è da tutti non è di tutti non brilla di luce propria è sempre stato un seconda fila Ramazzina potrebbe spiegarcelo molto meglio la corrente della sinistra demogistiana Zaccagnini De Mita eccetera eccetera il fratello del più famoso all'epoca Piazzanti Mattarella Sergio Mattarella voleva fare il docente universitario lo faceva già poi l'uccisione dell'assassinio della mafia da parte della mafia del fratello Piazzanti lo ha costretto lo ha spinto con padre Pintaguda Gesuita a entrare in politica per tenere alto il nome del Mattarella che era stato ucciso Mattarella mi pare che al netto delle crisi che però punteggiano non solo il suo settennato ma tutta la vita politica e non solo politica vorrebbe esercitare questo suo ruolo come un notaio nella forma prevista dalla Costituzione non con protagonismo pensiamo a Pertini a Scalfaro in parte a Napolitano ma come un notaio come un Presidente della Repubblica che controlla che tutte le cose vengono fatte per bene a norma di Costituzione ovviamente in questo periodo così complicato è costretto a vigilare e a intervenire perché abbiamo un governo non scelto dagli elettori con un Presidente del Consiglio diciamo presenzialista e molto disinvolto parlo di Conte che ha bisogno di essere dall'alto digitato e controllo visto che il Parlamento è praticamente chiuso da mesi ha bisogno di una autorità superiore che lo controlli e che lo richiami all'ordine quando esagera con i ritardi quando esagera con gli interventi quando dice io in politica Giuliano è un maestro in questo non si dice mai io si dice noi si dice squadra Conte usa il pronome personale io e questo è sbagliato in politica non si fa è proprio l'ABC del vocabolario dell'alfabeto della politica quindi viva Dio che c'è Ciamate che interviene pensiamo al caso Malamara che sta scuotendo la magistratura Mattarella è intervenuto pesantemente e duramente come Presidente del CSM e quindi anche in questo senso quando è postretto interviene lo fa puntualmente all'orizzonte entra in una cosa e mi fermo e chiudo con questo dubbio che il capo dello Stato deve essere anche terzo terzo a se stesso terzo a tutto il resto del paese io ho l'impressione che più si va avanti nei mesi e più inevitabilmente come è stato per tutti i suoi predecessori anche i pertini che aveva 90 anni puntava faceva capire che non gli sarebbe dispiuto fare il bis l'ha fatto soltanto Napolitano per un tratto dei secondi sette anni allora febbraio 2022 scade il settennato di Mattarella in questo anno e mezzo che manca quasi due anni poco meno di due anni è chiaro che lui potrebbe sciogliere le camere in ogni momento ancora per un anno e mezzo fino all'inizio del semestre bianco ma mi chiedo lo chiedo a voce alta agli amici ha la libertà e l'autonomia intellettuale per prescindere dalla sua eventuale successione a se stesso e sciogliere nel caso le camere se non ritenesse la soluzione migliore per l'Italia per il Parlamento e per il paese cioè può vincere la tentazione di puntare al bis che già si sussurra intorno al Quirinale e sciogliere le camere perché quello pensa a un certo punto se cade il governo Conte se c'è una crisi pesante che sia questa la soluzione migliore del paese questo è quindi sarebbe la vera prova di forza e di grandezza di Mattarella se riuscisse a sciogliere le camere una volta che questo governo sembra che possa guardare l'orizzonte molto lungo dovesse cadere lui dovrebbe dire forse è il caso di tornare alle urne fare in fretta perché un governo autorevole è quello che serve a questo paese poi al Quirinale quando da un momento si vedrà ma non condizionare le sue scelte all'eventualità del suo bis mi fermo grazie grazie veramente riflessioni estremamente importanti era il richiamo che chiedevo quindi veramente grazie direttore passiamo a un altro argomento con la dottoressa Poletto parliamo di turismo buongiorno buonasera anzi benvenuta ancora il suo intervento ovviamente è più specifico visto che lei è un'imprenditrice titolare dell'Abanoriz Hotel Terme di Abano Terme e lei ha vissuto e vive una situazione forte come quella del coronavirus in quello che è il suo settore io leggo nel suo intervento mi permetto di citare la sua citazione tra virgolette il turismo risposi lei sta rispondendo alla domanda qual è il mestiere più antico del mondo è un lavoro che produce oltre che business valori grazie ad aziende non delocalizzabili quindi per lei il lavoro più antico del mondo il mestiere più antico del mondo è il turismo e dopo di questo lei sottolinea che però lo affronta e lo 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 vede e lo interpreta oggi in questa chiave in una chiave più umanistica in una chiave trasversale di personalizzazione di valore della storia e dell'accoglienza le dispiace approfondire questo suo messaggio anzi lo faccio con piacere ringrazio Giuliano e il direttore Mazza per aver pensato a questa a questo libro collettivo e solista nello stesso tempo perché il concetto di questo libro è esattamente il concetto del mio lavoro il turismo lei ha parlato di un settore non è un settore il turismo non è un settore è l'ossatura stessa dell'Italia ed è puntiforme corale solista esattamente come questo libro esiste perché esistono tanti turismi l'indotto non c'è non è un il turismo non crea indotto ma crea moltiplicazioni e addizioni di economie quindi il valore di cui vado parlando non è soltanto il valore del fatto di essere aziende che non possiamo andare da un'altra parte come ha fatto la FIAT un nome a caso e io non mi interesso di politica se non nel senso più stretto del termine ma il problema è che noi insistiamo in un territorio a questo territorio siamo legati e ne trasmettiamo tutto il portato culturale economico enogastronomico folcoloristico tutto quello che vuole lei per cui il fatto che il direttore abbia scelto nel suo alfabeto come H gli hotel non era facile trovare un altro nome con l'H devo dire però mi ha dato come dire mi ha dato fiducia del fatto che il turismo e ripeto non è l'hotellerie il turismo è l'Italia il turismo soffre proprio perché non c'è nessuna cultura dell'ospitalità l'abbiamo data per scontata come un prerequisito come quei zuzzerelloni che suonano il mandolino e servono la pizza d'altro canto c'è un problema di fondo a mio avviso drammatico che è quello per cui ho molto apprezzato il pezzo del dottor Udenico Bernardi perché lui dice una cosa molto importante c'è una parte sociale e una parte economica invece in questa pandemia noi abbiamo fatto quattro strade tutte insieme l'economia la finanza la fede la scienza tutti insieme non è possibile scegliere quattro strade e percorrerle contemporaneamente bisogna sceglierne una alla volta e dare una serie di valori il turismo se l'è sempre dato il suo valore il suo valore sta in quei numeri che continuano a variare se lei guarda prima del coronavirus il pil del turismo era intorno all'11-12% siamo già arrivati al 15% non è che si è moltiplicato che tutti gli alberghi sono chiusi no no è che finalmente stanno usando il pallottoliere quindi quando parlo di turismo come il più antico mestiere del mondo lo facevo da donna a donna con ironia perché è citato nel Vangelo la Madonna andò cercando un albergo libero ma è ancora più antico di questo sa perché qui c'erano degli esimi illustrissimi storici ma quando la donnina di colore che veniva dai paesi lontani del corno d'Africa arriva da noi e incontra il Nendertal biondo alto e bonazzo voglio dire ha fatto un viaggio e questo viaggio ha creato il mondo capisce e non starò a fare qui le cahiers d'oleances di alberghi che siccome non sono stati chiusi non possono aprire siccome siamo termalisti e quindi stiamo al ministero della salute però l'igienizzazione della sanificazione sia mai cioè per me è un prerequisito e adesso mi vogliono insegnare come lo devo fare non stiamo a parlare che un albergo come questo mio e come il mio altri sono ristoranti bar alberghi centri benessere e centri medicali lei capisce che macchina quindi a me istintivamente mi verrebbe da dire ma perché devo aprire chi me lo fa fare a me se devo ritornare e sono d'accordo ahimè tra animali dimenticoni come si dice in veneto mania desmentega ha voglia che abbia mangiato in sto periodo a fare pane pane a casa pizza e cose ma non funziona così non funziona così la gente non è più buona e neanche più solidale e io sono molto preoccupata che a settembre ottobre qualcuno si armi e faccia qualcosa di grave e se qualcuno lo farà io sarò con lui perché a me hanno tolto la libertà di decidere e mi si continua anche qui a bacchettare come se fossi una bambina ho 60 anni e sono una nonna quindi a me di lezioni non me ne può dare più nessuno quindi o assumiamo come dice il signor Bernardi dottor Bernardi veramente responsabilità e coscienza rispetto dell'altro io dubito che questo mondo che Potti dice l'Italia sana io non l'ho vista l'Italia sana dal 2008 l'economia italiana sta intubata quindi di che cosa stiamo parlando? la globalizzazione non va bene beh però se continuiamo a parlarci così non è che stiamo tanto andando meglio perché se io non la posso toccare non posso dire che ha due occhi neri bellissimi e che lei è riccia mentre io dritta e per una vita mi sono fatta la permanente da essere riccia come lei mentre magari lei invece si stira i capelli ecco capisce questo non va bene questo non va bene il 4.0 come la mappatura che ci vogliono fare è una cosa gravissima la tecnologia deve trovare la sua ragione di esistere a servizio a servizio l'ultima cosa che voglio dirvi è che questa regione che si è compartata benissimo bisogna sempre vedere da dove siamo partiti quando si dice che una cosa va molto bene se partivamo da zero ci voleva poco per andare meglio però se abbiamo fatto per anni tutto il lavoro del plastic free c'era la tassa del plastic free e via dicendo io adesso come albergatrice sono cinque anni che lavoravo alla plastic free sa adesso quanta plastica farò io non so dove la smaltiamo questa plastica qua io ho una nipotina di due anni e si troverà sommersa di mascherine e guantini pensiamoci pensiamoci l'ultima cosa e poi ripeto è talmente piacevole questo consesso di amici e le dico la verità Giuliano Ramazzina ha una rara qualità e non sto sviolinando ha la qualità della ricamatrice lui tesse relazioni è un altro mestiere antico antichissimo lui tesse relazioni con la sensibilità l'attenzione e l'estrema l'estrema rispetto degli spazi di ognuno quindi le sono grata perché se non se non ci salva la cultura dubito che ci possa salvare qualcos'altro quindi il turismo e so che è bellissima Venezia senza nessuno ma non sta in piedi so che è benissimo la lepre che ho qui in parco assieme ai miei conigli bellissima la lepre ma c'è l'erba alta così e io non ho i soldi per pagare il giardiniere vi ringrazio siamo noi che ringraziamo lei per il suo contributo penso che possiamo esprimere empatia perché ciascuno di noi sta soffrendo queste conseguenze e non forse nelle sue proporzioni però la comprendiamo siamo assolutamente empatici in questo ne approfitterei per chiedere l'intervento di Giuliano a questo punto se Roberto gli puoi concedere il microfono grazie perché ti avrei comunque chiesto di intervenire Giuliano aspetta che ti liberano il microfono eccolo qua dopo un intervento da Ida devo dire delle cose Ida secondo me è una donna speciale e tra l'altro no tu vabbè ti ringrazio delle parole che hai detto però c'è da dire una come te che ha fondato una rivista che si chiama Virtuoso scritta da tutte donne con il solo direttore maschio direi che merita una medaglia è una cosa straordinaria tra l'altro tu lo sai che io sono un tifoso delle donne le vedo le vedo anche presidente della repubblica le vedo anche a proposito Mauro una donna presidente della repubblica non sarebbe mica mica male non so come la pensi e anzi sarebbe bello che tu mi regissi un giorno volevo solo prendere spunto da 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 dire mi dirai cosa pensi del mio intervento perché io oltre a coordinare ho anche scritto intervento dove credo spero di avere benignato bene quale è stata una delle conseguenze su cui riflettere della politica perché mi piace scrivere e raccontare la politica ho scritto diversi libri perché sono un doroteo non pentito posso dire sono un doroteo un democraficiano doroteo non pentito e me ne vanto anche perché quando uno ha nascere lo sa Mauro quando uno ha una genetica politica essendo veramente nato in un altro contesto è difficile abbandonarla poi non è il caso di tradire ma tutte le tradizioni ma migliorarle sì e anche come dire usare anche il metodo della critica cioè la festa finché la fanno bisognerebbe sapere dalla Ida cosa ne pensa del mio contributo perché l'ho anche scritto e credo di essere uno dei pochi ad aver individuato nella crisi del leghismo uno degli effetti del covid il covid ha fatto dei disastri e ha messo le mani anche nella politica italiana non so come andrà a finire però meritavo in maniera del tutto non facciosa perché io sono io stavo in maniera equilibrata però analizzare anche il momento politico per dettagli degli studi che penso che anche Mauro Travato che è un assuntissimo analista politico con il quale mi trovo molto bene anche se abbiamo trovato le idee diverse e questo fa bene fa bene nella dialettica mi piacerebbe sapere cosa ne pensi perché ecco io volevo concludere dicendo che lo mio modo di vedere quello che mi ha ispirato è che siamo un cambio d'epoca allora io dico in maniera transciante chi capisce politici imprenditori sacerdoti papi che siamo un cambio d'epoca si salverà perché il covid lascerà qualcosa chi non capisce che siamo un cambio d'epoca farà fatica e probabilmente ne pagherà in maniera molto grave le conseguenze perché questo è quello che in genere ho capito parlando vedendo leggendo e confrontandomi questo è un po' quello che io volevo mettere sul piatto della discussione il cambio d'epoca in riferimento al tuo intervento vorrei che approfondissi anche quello che tu intendi per fare non fare lasciar fare le tue parole chiave no? si c'è tutto noi siamo vissuti nella politica del fare dalla democrazia cristiana a Berlusconi lo cito lo cito citando anche un sociologo molto importante non dico chi ma deve leggerli noi siamo vissuti nella politica del fare in più siamo liberisti e difficilmente neoliberisti vedete ci peroglieremo questa patina però il lasciar fare è stato messo in crisi e lo spiego dal Covid quindi il Covid ha messo in crisi la politica del fare e anche la politica del lasciar fare e anche siamo molti politici ci sono parlati di fronte al problema dei che fare e non è da poco io gioco con le parole però è un po' profondo il discorso bisogna andare a vedere perché l'ho articolato bene perché tra l'altro il mio intervento è un pro perché è stato scritto tra me tutto il tempo della quarantina continuamente aggiornato e quindi è un po' una cronaca politica di quello che è stato e in finale delinea una chiave interpretativa una chiave interpretativa metaforica su una battaglia tra Atenesi e Spartani e da lì si vedrà chi vincerà questa battaglia perché ci sarà una grande battaglia politica finito il Covid e vedremo chi vincerà non lo so chi vincerà ma ci sarà una grandissima battaglia politica all'ultimo sangue per la conquista del potere in Italia perché naturalmente il ponte non ci sarà più e lì Mauro naturalmente anche lui credo avrà le sue idee ci sarà veramente una riconfigurazione del potere e parallelamente alla riconfigurazione del potere io direi che un'altra parola chiave che è sulla bocca di tutti e forse di troppi è la parola libertà io vorrei chiedervi perché ormai abbiamo stiamo già avvicinando all'oretta di questa di questa chat per cui siamo in via di conclusione vorrei chiedervi entrambi a Giuliano e al direttore Mazza la parola libertà oggi con cosa ci possiamo lasciare con che augurio ci possiamo lasciare questa sera per rivederci in un'altra circostanza però aspettandoci che la libertà che ci è stata tolta per motivi di salute motivi di sanità pubblica ma che venga comunque riconosciuta per essere uno dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino allora per me la libertà è libero pensiero assoluto libero pensiero assoluto per il resto lascio a Mauro perché lui è un maestro sul tema della libertà è un po' troppo questo troppo impegnativo no io dico questo che da qualche anno ormai diciamo dopo le torri gemelle dal 2001 quasi vent'anni ormai il tema della libertà è cambiato perché ha dovuto trovare un punto di incontro faticosamente un punto di incontro che si è sempre spostato un po' più in là con il tema della sicurezza ce ne abbiamo cominciato a cedere quote di libertà in cambio di un po' di sicurezza a partire dal 2001 negli aeroporti nei movimenti nel passaporto nei questionari che siamo consentiti a riempire però prezzi di libertà che abbiamo ceduto quote che abbiamo ceduto sapendo che era nel nostro interesse e lo si fa per voi si dice il Toscano lo si faceva per noi allo stesso modo scoppiata la pandemia quote di libertà lo stare chiusi in casa è stato un sacrificio di tenuto necessario l'impressione però come l'ho avuta per l'eccesso di sicurezza troppo a discapito della libertà comincio a non dirla anche in base a quello che sta avvenendo cioè questo tentativo cioè i ragazzi che fanno assembramenti sono sciagurati non hanno nessuno a casa che spiega loro che è nel loro interesse evitare assembramenti e di più non c'è nessuno che spieghi loro che abbia l'autorevolezza per farlo che un po' di sobrietà da parte di tutti sobrietà nella libertà significa anche avere rispetto di chi non c'è più delle famiglie che hanno perso i propri cari per questa pandemia e per la difficoltà che tutti viviamo ecco il festeggiare quando non c'è nulla da festeggiare è segnale di inconscienza di inconsapevolezza di essere bambinoni nel senso peggiore del termine detto questo però qualcuno si sta approfittando di queste fotografie a volte anche costruite chi ha frequentato redazioni e fotografie per i giornali sa che ci sono i gemelli cioè basta basta cambiare la prospettiva della foto e un po' di pubblico diventa folla diventa assembramento basta spostare in alto e in basso l'obiettivo cioè prendere una testa accanto all'altra e si perde la prospettiva rispetto la stessa foto dall'alto sarebbe molto meno gente di quella che appare su un giorno chiusa questa questa parentesi voglio dire la libertà però va riconquistata sapendo che è il bene supremo che possediamo e chi volesse sopraffarla chi volesse annullarla vendendo sicurezza è come se ci promettesse brioche mentre noi chiediamo pane libertà anche la libertà di intrapresa di cui ci parlava l'Aita Poletto non può essere libero l'imprenditore che non ha che ha laccio e laccioli che le legano i polsi le mani e i piedi e non ha di che poter riaprire i battenti e fare il turismo che soffre con la S si offre perché quello è il mistero del turismo e chi soffre con l'apostrofo non senza apostrofo ecco vediamo la libertà e difendiamola e riconquistiamola lentamente io faccio il tifo ripeto che lo faccio veramente il tifo perché il contagio scende a giorno per giorno fino a quando un giorno spero davvero molto presto anche chi ci dice prudenza non allarghi le baci e dico l'emergenza è di fatto finita fate quasi tutte le cose che facevate prima io spero che non manchi tanto a questo spero Ida che accada per te per tutti noi entro l'estate io la ringrazio direttore ho mandato un messaggio a tutti chiedendo se qualcuno vuole eventualmente fare una domanda in chiusura e anche a chi la vuole rivolgere e chiedo a Roberto cortesemente di riaccendere le telecamere così prima di salutarci vediamo se qualcuno vuole dare un contributo o fare appunto delle domande mi veniva voglia di chiamare qualcuno sulla bellezza visto che ci manca Gloria Vallese stasera che parlava di ciò Italo non lo sento però è rimasto bloccato Italo oppure Guido Eroldi magari su questo tema qua visto che è un tema suo fa l'artista oltre che insegnare a scuola e penso che insegnare bellezza sarà comunque importante nel prossimo futuro mi sentite? sì benissimo sì allora innanzitutto vi ringrazio ringrazio Roberto per avermi invitato io sono Guido Eroldi come dicevo prima sono un veronese da adozione in realtà sono bergamasco ho toccato in primissima persona da questa emergenza perché ho perso il papà due mesi fa in una RSA a Pontida noi pensavamo fosse in un posto al sicuro in realtà purtroppo si è rivelata un po' una una gabbia e forse lunedì riusciremo a fare una messa funebre tanto per dire che i morti ci sono stati io provengo da un piccolo paese in provincia di Bergamo di 5600 abitanti dove vi posso dire che avrò visto almeno 10 papà di 10 miei amici morti un paese di 5600 abitanti che solo a marzo ha visto morire 55 persone proporzione altissima tipo il 450% in più rispetto allo scorso anno però però io non 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 credo tanto nell'ottimismo perché come mi disse uno padre passionista che ha creato un grande progetto in Africa l'ottimismo mi disse è una sciocca ipoteca su un futuro incerto mentre invece io nonostante essere stato toccato in prima persona credo nell'italica arte di reinventarsi di riorientarsi io sono anche un artista e dopo un primo momento di vuoto sono stato provocato nel fare provocare nel senso di chiamare per una chiamata e io credo che ancora una volta troveremo il modo di venirne fuori e certo ostinatamente un po' d'artista profeta permettetemi se dico queste cose ma penso che su di noi ci sia un disegno buono e misterioso e questo paese la nostra cara Italia ha tante risorse penso alla signora Ida in Veneto penso che abbia tantissime risorse per per battagliare per riorientarsi e girando anche un po' per il mondo quando torno mi rendo conto che noi la bellezza l'abbiamo nel DNA noi italiani l'abbiamo nel DNA da un muro a secco da un ulivo che sta fiorendo adesso qua fuori da un una fabbrica in mattoni rossi che viene come archeologia industriale riadattata io sono convinto che le risorse noi le abbiamo è chiaro questo deve diventare un'occasione dobbiamo stringersi ma non so se il covid doveva proprio arrivare io mi chiedo perché nessuno nonostante questi numeri parli mai anche in tv dal cuore dell'uomo voi come state noi come stiamo ma noi siamo felici cos'è che ci tiene sulla vita quando ci alziamo la mattina io da artista mi sento sempre questo diavolaccio col tridente alle spalle che mi rincorre tutti i giorni tutti i momenti e secondo me queste domande sono un po' sopite chissà che magari questo periodo ci aiuti a rifarcele ecco perdonate così un po' la foga sono temi che mi interessano tantissimo la bellezza ci salverà ma quale bellezza ci salverà c'è una seconda parte della frase che non viene mai nominata sì grazie volevo un passaggio su questo perché mi mancava appunto Gloria che stasera contavo che fosse con noi ma invece ha avuto un problema anche lei io direi che è stata un'ora intensa tutti avete dato il meglio e sono contento soprattutto che ci sia trovati anche attorno a questo libro cercheremo di fare il nostro meglio per trovarci più avanti e singolarmente magari approfondire sui vari binari e darci una mano sul prossimo futuro per me è stato bello vi ringrazio e chiuderei qua se non ci sono altre domande ho visto che è arrivato Gian Battista me lo vedo adesso in luce buonasera Gian Battista hai una domanda particolare a questi ospiti speciali presentati allora sono Gian Battista io lavoro in Confartigianato Verona ho a che fare spessissimo con le imprese artigiane io sono arrivato proprio in ritardo perché ero proprio con un'impresa a fare un po' di consulenza la cosa che mi colpisce di quello di quello che è stato di quello che è stato detto è un po' quello che mi sto portando appresso da quando diciamo un paio di mesi fa insieme ad alcuni amici noi abbiamo fatto la mostra sulla realtà di Giobbe abbiamo assistito volevo solo raccontarvi questa questa piccola mia esperienza perché la trovo molto collegata anche al senso della domanda dell'io e quello che poi diceva anche Guido scusami se ti do del tu ma mi sento molto in sintonia sulla tua osservazione che hai fatto qui ultimo sulla bellezza e affrontando quel libro lì a me è venuto proprio cioè il paragone e io l'ho affrontato prima dell'evento covid dell'occasione covid per cui quello che 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 mi sono portato proprio all'inizio della 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 pandemia proprio il fatto di dire ma io come ci sto di fronte a questa cosa cos'è che regge l'urto di questa di questo punto interrogativo che fine farò cioè perché poi la domanda ultima che mi sto sempre ponendo io che sono arrivato anche da 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 un'esperienza infartuale è un po' la domanda che mi si sta mi sta sempre il tridente cioè non tanto il diavoletto ma è proprio la domanda di senso e a me colpiva tantissimo come a un certo punto arriva arriva a questa lotta con io la bellezza con la B maiuscolo la intendo il rapporto mio con chi mi ha creato e quindi Dio e Giobbe a un certo punto instaura una lotta una lotta col Padre Eterno e il Padre Eterno non gli risponde gli fa solo vedere quello che ha creato ecco a me la cosa che è più impressione in questo periodo è vedere occasioni come il fatto di mancare relazioni perché ad esempio questo di questa sera pur essendo in ritardo la difficoltà di ci siamo siamo in 16 17 persone abbiamo già tessuto delle relazioni che a me stanno già allargando il cuore e anche la ragione per domani mattina come star di fronte a quello che sto vivendo e con altri artigiani con altre realtà ma la stessa famiglia è stato riscoprire delle cose scontate che non sono poi così scontate il valore della famiglia il valore della moglie il valore dei figli giocarcela giocarcela nel quotidiano per cui io sono stato cioè la cosa bella del covid è quello che mi ha messo di fronte alla bellezza che non avrei immaginato perché tante volte magari la bellezza ce l'immaginiamo invece ce l'abbiamo in una forma diversa ma che ti spalanca completamente a nuove e ti fa imparare ecco questa cosa qua l'ho detta stamattina a un gruppo di lavoro in confartigianato con alcuni coordinatori e ho detto ho cominciato a rigustare la voglia di imparare e stare di fronte a questo per me è un po' la salvezza la B maiuscola che mi viene incontro e per dire tu questa è la strada insomma quindi io vi ringrazio proprio per gli spunti che mi avete dato l'energia che a me colpiva perché poi parlando la signora Aida io l'ho rivista molto in altri in altri in altre sfaccettature di molti artigiani che in queste serate di collegamenti l'incazzatura passatemi il termine è ogni giorno però è un'incazzatura io l'ho sempre battezzata positiva perché se manca l'incazzatura uno è morto con l'incazzatura invece comincia proprio a tirare sulla testa e lavorare per cui anche questa occasione qua secondo me diventa proprio una bella occasione scusate la denungaggine no ci mancherebbe altro anzi grazie grazie infinite porgo ancora un'ultima occasione qualcuno se vuole ancora intervenire altrimenti chiudiamo qui vorrei un ultimo saluto da Giuliano e dal dottor Mazza io volevo dire solo che adesso bisogna leggere il libro che da molti spunti è un libro che è scritto come ha detto Mauro con il libro col cuore ma anche con la ragione perché miscerando questi due ingredienti probabilmente leggendo uno potrebbe uscirne meglio e anche potrebbe anche trovare spunti per vivere meglio questa tragedia umana che ha colpito l'umanità perché è un'altra tragedia che non colpisce se non colpisce solo in Italia ma tutto il mondo e lascio la parola a Mauro per l'ultimissima leggete il libro perché noi l'abbiamo scritto ci sono validi contributi non dimentichiamo io vorrei citare perché Mauro ne ha parlato in televisione citando ovviamente anche un contributo molto interessante di Giordano Viello un giovane imprenditore che è stato premiato da forse come uno di 300 milioni di imprenditori trentenni ed è italiano e soprattutto dalla provincia di Verona vorrei ricordare due contributi di Nicolai Lili e Matteo Strucco due scrittori di bestseller che si sono prestati con la loro generosità a contribuire a questo libro perché è un libro generoso scritto col cuore ma anche grazie alle generosità di tanti scrittori giornalisti vorrei citare anche Don Bruno Casani ma anche un altro per finire un altro contributo che secondo me è molto interessante è quello Fino Vetti Vandernotti che è uno dei più grandi giardisti italiani che è milanese però è un ottimo scrittore lui tra l'altro ci sentiamo lui dice sono un ospite non scrivo molto che invece è più comporre però secondo me chi scrive ed è un vicista siccome la scrittura è anche musicalità lui scrive molto bene quindi io penso che averli imbarcati in questa iniziativa arricchisca ancora di più a te Mauro sì grazie io giudico molto positivamente questo tempo che è volato via ci siamo conosciuti e riconosciuti siamo scambiati le nostre opinioni io credo che l'augurio migliore che possiamo farci è quello di rivederci da vicino che io dal frulli possa andare in Veneto e viceversa oggi ancora oggi questo io sono sul livello del tagliamento si può dire non posso attraversarlo perché mi è proibito a proposito di libertà questa è la libertà da riconquistare perché poi posso anche scegliere di restare a casa ma lo decido io se restare se uscire non ne decide né Giuseppe Conte né nessun altro questo è il vero problema che abbiamo davanti se noi abbiamo dato con questo nostro lavoro un contributo di consapevolezza a chi avrà la cortesia e la bontà di leggerci avremmo fatto già un'opera buona perché se affrontiamo consapevolmente ogni passaggio di questo nostro presenza possiamo pensare di essere liberi di sceglierci di costruirci il futuro e soprattutto di avere un futuro che oggi anche quello è in discussione visti il quadro drammatico dei numeri dell'economia che ci vengono parati davanti e che alcuni stasera ci hanno raccontato ecco vivere consapevolmente il presente e costruire con questo il futuro sperando di rivederci presto anche a proposito di questo libro cioè magari fare in piena estate ritrovarci tra noi da vicino e commentare non tanto il libro come è andato ma come va la vita e abbracciarci se è possibile quello sarebbe un altro segno di libertà riconquistata assolutamente grazie allora penso che sia arrivato il tempo di concludere io vi ringrazio tantissimo sono onorata di avervi visto conosciuto e di avervi tra i nostri autori noi siamo i vostri privi cheerleader quindi faremo di tutto per divulgare i vostri contenuti e per fare in modo che più italiani possibili possano essere incoraggiati posso dire una cosa ho visto che l'Aida ci invita tutti da lei ho visto lo scritto ha detto che pronto lo spritz per dei prossimi periodi accettiamo l'unito allora ci vediamo per lo spritz appena riaprono le fontene così può venire anche il dottor un momento c'è mia moglie Emanuella che dice voglio sorridere tutti ma in particolare Ida Poletto un saluto affettoso da parte di Emanuella Ciao grazie a tutti grazie a tutti benissime grazie ancora a tutti buona serata rivederci a presto e da vivo rivederci grazie grazie ancora grazie buona serata grazie